Però, Mirta, questo presuppone che i cittadini non siano in grado di capire i provvedimenti e che quindi penalizzino sempre i politici perché attribuiscono loro intenti negativi. Io non penso che sia così. Io penso che se all'inizio di settembre si fosse spiegato, si fosse detto guardate che c'è questo bisogno, guardate che lo facciamo per voi, per non trovarci a ottobre, a novembre, a dicembre, con anche i dati scientifici del Comitato Tecnico, i cittadini non avrebbero anteposto la voglia di andare al centro commerciale o di fare la movida la sera. Avrebbero forse capito un primo provvedimento in vista di una sorta di tampone rispetto al virus. Tienilo lontano il più possibile. Invece, quello di cui ho avuto l'impressione è un po' di affanno, forse anche motivato da una certa debolezza politica del governo, perché poi al loro interno... Non si riescono a prendere decisioni precise e rapide, dice la Fornero. Non si riescono a prendere decisioni, dice la Fornero.